Ma proprio a me mi era succedere. E come faccio senza un braccio? Faccio pilota senza un braccio, ci mangiare una baccia. Ui, perché lei guarda Achille, a me mi mancano un braccio, a Achille ci mancano tutte e due braccia e cammini a bala, ma allora è contento? No, io ci ha domandato perché. Amico, scusate, io sto a scendere pazzo. Perché? A me mi mancano un braccio e a me mi vittà a bai, appunto mancano due braccia e cammini a bala. Ma che bello caccio? Ma proprio il culo e non mi posso trattare.